Perfetto, allora, metto il muto, sblocco tutti gli audio e Claudio sblocco direttamente te. Grazie. A te e iniziamo. Allora, inizio con la condivisione. Questa sera ho una zoom un po' particolare perché comunque parliamo sempre di progetto al femminile, che in realtà è vero, questo è un progetto, è un lavoro prettamente femminile, ma non è proprio così perché comunque questa sera ho invitato tre persone che stimo tantissimo e posso definirli i pionieri insieme a me e insieme ad altre persone di questo progetto che è stato creato dieci anni fa, Stoppable Generation, che ha portato il vecchio sistema del network marketing dal tradizionale all'online. Quindi questa sera appunto vi presenteremo questo progetto, ma a differenza degli altri eventi sarà un progetto totalmente al maschile e poi adesso vi spiegherò perché. Allora, quali sono appunto i tre aspetti che una persona normalmente desidera migliorare? Aspetto fisico, autostima e crescita personale e aspetto economico, ma molto spesso questi aspetti non si realizzano. Perché? Perché sono troppo complessi, sono troppo difficili, non c'è una strada da percorrere per raggiungerli, non si trova e quindi poi si molla e si diventa poi frustrati. Ma in realtà quello che ti presentiamo oggi è un progetto di network marketing online dove hai una doppia scelta. Puoi semplicemente migliorare il tuo corpo perché si parte, si vedrai poi perché ti sto spiegando questo, oppure insieme appunto a migliorare il tuo corpo puoi scegliere anche il doppio vantaggio. Dalla tua trasformazione fisica ottenere fin da subito il guadagno extra perché è proprio da qui che parte questo business online. Tu non lo sai in realtà, ma fai network, facciamo network tutti quanti, tutti i giorni, senza pensarci. Io sono sicura che tutte le persone qui con noi, se tutte le persone che vedranno questo evento, gli sarà capitato di andare in un ristorante e postare, fare una storia taggando il ristorante, no? Con il piatto, con l'ambiente, eccetera. Che cosa succede? Che quel ristorante riceverà una pubblicità gratuita da te, ok? Ma tu non verrai pagato da quel ristorante. In poche parole è questo quello che noi facciamo attraverso i social, solamente che qui veniamo pagati dalla nostra azienda. Ora voglio presentare Claudio Capozza, che è la persona che dieci anni fa mi ha fatto conoscere questa attività. Claudio. Buonasera. Ah, partiamo così subito a bomba? Ciao. Grazie per essere qui questa sera, mi fa molto molto piacere. Grazie a voi. E chi sei Claudio Capozza? Allora, molto velocemente. Non voglio rubarvi tanto tempo. E la mia storia penso che si possa rispecchiare nelle tante persone che ci stanno ascoltando in questo momento, che magari la vedranno anche registrata. Ma perché in tante persone? Molto semplicemente, sono un ex commesso di una cadena di supermercati. L'ho fatto per 23 anni, quasi 23 anni. Mi alzavo la mattina alle 5-5 e mezza, andavo ad aprire il supermercato perché avevo le chiavi del supermercato, insieme al direttore, al caporeparto, quello che sia, e tiravo fino alle 2 e mezza, 3 del pomeriggio. Poi, pomeriggio, inforcavo la borsa da tennis e fino a sera tiravo pallette. Sono anche un ex istruttore di tennis. Freddo, gelo, pioggia, il tempo stavo lì a tirare pallette. Ed era un rincorrere quelli che erano i miei sogni. Spesso i debiti, spesso le frustrazioni, spesso era una vita che si arrivava al 21, al 20, al 21 del mese con i soldi che potevo guadagnare. Guadagno anche abbastanza bene, perché tra supermercato e tennis, insomma, tiravo su quei 2000, 2002, 2003. Però era una vita lontana dalla famiglia. Io ho due gemelli che oggi hanno 22 anni, quindi io li vedevo la mattina, li salutavo la mattina che dormivano e tornavo la sera a 10 e mezza, 11, che dormivano. Il bacetto della mattina per svegliarsi e il bacetto della buonanotte. E questa è stata la mia esistenza per buoni 30 anni. Poi che cosa è successo? Ho incontrato questa attività, ma in un modo molto fortuito. Da, come posso dire, da atleta, ho cominciato a prendere un prodotto. Mi serviva una sorta di integrazione, no? A quella che era la mia quotidianità, perché avevo appunto delle, come posso dire, delle deficienze a livello fisico. Non ce la facevo, perché giustamente, dalla mattina alla sera in piedi. Cominciai a prendere i prodotti e subito ne trassi il beneficio. E la persona che mi ha proposto i prodotti, che mi ha fatto prendere i prodotti, mi ha anche detto che c'era un modo per guadagnare. Claudia l'aveva proprio ricordato in questo momento. Se oggi, che ne so, incontri una tua amica per strada, gli vedi addosso una bella borsa, subito gli dici, dove l'hai comprata? E la tua amica dice, l'ho comprata in quella via, in quel negozio. Magari Claudia prende, va in quel negozio e compra quella borsa. Chi ci ha guadagnato? Chi produce la borsa? Chi distribuisce la borsa? Ecco, questo, in parole povere, è quello che a noi è capitato. Quindi, avevo incontrato questo mondo, dove si poteva guadagnare, semplicemente parlando dei propri benefici, parlando del prodotto che uno stava, in quel momento, prendendo. E portando, come posso dire, la propria esperienza, ok? Però, mi butto in questa avventura nel gennaio del 2008. Quindi, sono tantissimi anni che faccio network. Gennaio 2008, e per sei anni, qui non voglio spaventare nessuno, e attenzione, non è quello che capiterà a voi, questa attività l'ho fatta in modo offline. e andavo in giro con la mia bella 24 ore, cercando di piazzare, appunto, un prodotto, cercando di mettere, di coinvolgere qualche persona nel mio team, alla ricerca di quel guadagno automatico ricorrente e passivo. Però, che cosa è successo? Partendo dai parenti più stretti, agli amici, ai colleghi, ogni volta che mi vedevano arrivare, a distanza di tempo, si mettevano le mani nei capelli e facevano a rieccolo questo, perché è di Roma, sa, insomma, l'espressione, ero diventato l'uomo delle pasticchette, a rieccolo questo che ci vuole piazzare, queste pasticchette, queste capsuline. Questa storia è andata avanti per sei anni. Se faccio un cumulo degli assegni che ho preso per sei anni, non arrivo neanche a 4.000 euro. Bel business di puntini e puntini, ok? Che cosa accade nel 2014? Nel 2014 parte quella che per noi oggi è stata un po', come posso dire, la rinascita per tanti di noi. Fino a quel tempo combattevo ancora con le bollette, con l'affitto, con la macchina che si rompeva, tutti quelli che erano i problemi, no? Che tanti di voi magari stanno portando ancora avanti. Ma nel 2014 questo si è trasformato da quello che era offline, dal discorso di fare questa attività, proponendo quello che avevamo per le mani, cercando di acquisire clienti incaricati offline, l'abbiamo passato online. Abbiamo preso tutto quello che funzionava nel mondo del network marketing e l'abbiamo anche migliorato. E quello che non funzionava, quindi famosa 24 ore, cercando di piazzare un prodotto, quello l'abbiamo cestinato. Parte Unstoppable Generation e qui voglio darvi subito una tips che magari dopo, parlando con la persona che ti ha invitato a questa presentazione, avrai anche modo di capire meglio qual è questa tips e qual è questo consiglio, cioè fidati e affidati. Io mi sono totalmente affidato, anzi fidato della persona che mi ha proposto questa attività, illustrandola anche in un certo modo e mi sono affidato agli strumenti, alla strategia che quella persona in quel momento mi aveva dato. E ho dovuto fare veramente fatica in un certo senso, perché sei anni di offline fatto in un certo modo, pur guadagnando qualcosina, ma veramente zero, ormai ho innescato nella mia testa appunto un meccanismo che mi portava lontano da certi criteri. Io ho dovuto prendere il mio business, le mie convinzioni, le mie credenze, ho dovuto totalmente rivoluzionarle e buttarmi appunto in un'attività totalmente online, totalmente diversa. Dove? Sì social media. Facebook per me fino a quel tempo era Candy Crush, era magari andare a vedere qualche video di qualche persona strana o quello che sia insomma poco interessante, ma da quel momento 2014 abbiamo cominciato a monetizzare quella che è la nostra presenza sui social. Questo molto velocemente è stata insomma la mia storia, però voglio raccontarti anche che cosa è successo. Qui puoi leggere in questa slide un assegno medio di una settimana, in questo momento partner co ci paga settimanalmente. Questa cosa è fantastica, il lavoro che fai in questa settimana ti viene remunerato direttamente la settimana dopo. Però magari questo non sta tanto a indicare i soldi, il successo, anche la bella vita, qui indosso anche un bell'abito, nel periodo di Hugo Boss, è bellissimo. Però la vera vittoria, il vero successo, quello che realmente mi ha regalato in questa attività è poter essere e poter essere diventato una persona migliore. Non c'è miglior risultato che puoi ottenere nella vita se non diventi una persona migliore. Perché ti voglio dire questo? Perché sono stato alla ricerca continua della soluzione, alla ricerca continua di trovare, magari facendo qualcosa in più di straordinario, per pagarmi qualche cosa di più, alla continua ricerca di realizzare un qualcosa ma con le poche capacità che avevo. Purtroppo io non ho potuto studiare, non ho finito gli studi del liceo e mi sentivo un pochino, lo posso dire con molta sincerità, inferiore rispetto a tante persone che invece realizzavano sogni, anche magari con lavori ben remunerati. Ecco qui che cosa ho trovato? Ho trovato la mia strada, ho trovato il mio modo di esprimermi sui social, ho trovato il modo per farmi notare lì fuori. Ho realizzato tantissimo, ho scritto un libro, mi sono comprato casa in America, la macchina dei miei sogni, la casa dove abito adesso, prima era un affitto, adesso è mia. Insomma, ho fatto veramente tanto ma tutto questo successo arriva da quella tips che ti ho dato prima. fidati e affidati e l'unico ostacolo che hai è di poter e di dover diventare qualcosa di migliore. Diventa qualcosa di migliore, questa opportunità ti dà l'occasione di poter diventare una persona migliore e da lì avrai tutti i successi che meriti. Grazie Claudio. Allora, io ti dico anche che se ti va partecipa alle prossime slide, se ti va di intervenire. Assolutamente, ti do una mano. Allora, andiamo avanti. Quali sono i vantaggi di questo business? Ce ne sono vari. Prima di tutto, come abbiamo detto, puoi migliorare il tuo benessere fisico scegliendo il percorso per adatto le tue esigenze. Questo è un business chiave in mano, cioè hai a tua disposizione una formazione completa e gratuita. Purtroppo, aggiungo, perché comunque quando è gratuito non gli si dà il giusto valore. Un supporto costante su WhatsApp è attraverso formazioni live che facciamo settimanali di team e anche aziendali. È completamente online. Che cosa significa questo? Che non hai spese fisse, cioè questo è un lavoro autonomo con zero spese fisse e puoi iniziare senza dover rinunciare al tuo lavoro attuale, proprio perché lo puoi gestire in piena autonomia e online. Claudia ha iniziato questa attività come secondo lavoro, io e tante altre persone. È di facile gestione, cioè l'azienda che si occupa di tutti gli aspetti logistici e amministrativi e non devi fare magazzino ed è una cosa molto importante. Quindi si può dire che è veramente un business a zero rischi. Ma perché dovresti iniziare questa attività? Gli obiettivi possono essere vari. Prima di tutto un guadagno extra oppure ti piace viaggiare ma magari per una questione economica o di tempo non riesci. Ti piacerebbe appunto acquistare una casa come è successo a Claudio, come è successo a me, acquistare un'auto nuova, un'alternativa al lavoro che non ti piace oppure aiutare la tua famiglia anche perché comunque quando la tua famiglia sta bene, i tuoi figli riesci comunque a farli stare bene, stai bene anche te poi, no? Ma adesso arrivano i vari dubbi. Sono certa di questo perché nonostante tutto quello che possiamo farti vedere ci sono diecimila dubbi, no? Non sono social, non ho tempo, non ho disponibilità economica, non mi piace vendere. Ma in realtà noi questi dubbi ce li avevamo un po' tutti e neanche noi eravamo social perché siamo partiti da sotto zero, neanche noi avevamo tempo perché il 99% delle persone che iniziano questa attività hanno già un lavoro. Però il tempo si ricava perché? Perché ognuno di noi aveva una forte motivazione, avete sentito adesso Claudio, sentirete poi Luca e Gianluca, ognuno di noi aveva una forte motivazione che ci ha spinto e ci spinge tuttora a trovare il tempo. Disponibilità economica, è proprio perché non hai la disponibilità economica che devi iniziare questa attività perché lì fuori non te lo devo dire io ma se sei qui questa sera è perché sai benissimo che devi accontentarti, sai benissimo che comunque la società ti offre il minimo diciamo, Invece qui hai la possibilità veramente di lavorare per te stesso e non per qualcun altro, di realizzare i tuoi sogni e non i sogni di qualcun altro. Non mi piace vendere, in realtà è vero che c'è la vendita di un prodotto perché dire un lavoro online c'è sempre o la vendita di un prodotto o la vendita di un servizio ma non andiamo assolutamente a fare i venditori perché? Perché comunque sono le persone che attraverso questa strategia attraverso quello che noi trasmettiamo sui social attraverso i nostri profili ci vengono a chiedere informazioni si incuriosiscono dalla nostra trasformazione fisica dalla nostra storia come quella che ha raccontato Claudio e quindi ci vengono a chiedere informazioni perché ci saranno tanti uomini magari nella situazione simile a quella di Claudio che stanno cercando una soluzione e se Claudio racconta la sua storia sui social ecco qui che comunque altri uomini possono essere incuriositi dalla storia di Claudio adesso è il momento di Luca Giuliani allora Luca buonasera buonasera ciao eccoci ciao ciao allora Luca ci dici un attimino chi sei te invece? eh chi sono io? sicuramente una persona diversa da quando ho iniziato questo business quello sicuramente beh io sono un networker full time diciamo così svolgo questa attività dal 2014 e prima di questo momento ero un cameriere mi trovavo a 8000 km da casa a Vancouver ero partito con tantissimi sogni tantissime speranze ma poi in realtà lo sappiamo almeno chi ha un pochino viaggiato chi ha fatto queste belle esperienze all'estero pensando di cambiare vita non sempre è così immediato non sempre è così semplice e infatti mi sono ritrovato ad avere sostanzialmente tre lavori dalla mattina alle sette e mezza fino alla al giorno dopo perché andavo tornavo a casa luna e mezza di notte e mi sono trovato in una situazione in cui ok è vero bisogna lavorare nella vita però bisogna anche pensare a quello che realmente vuoi nella vita e in quel preciso momento nel 2013 io non sapevo perfettamente che cosa fare era un pochino in balia degli eventi diciamo un giorno è incredibile questa cosa perché un giorno ricevo una telefonata e una persona dall'altra parte del telefono mi dice Luca guarda abbiamo iniziato questo progetto online o meglio stiamo iniziando non sappiamo bene come fare cosa fare perché sì per cambiare vita però li utilizzi social e io ero totalmente antisocial è bello perché prima hai mostrato due slide una dietro l'altra in cui mi ci rivedevo perfettamente prima di iniziare non ero social non avevo tempo non avevo soldi non avevo niente ok però avevo una cosa fondamentale nella mia vita ovvero il sogno e la voglia di trasformazione sono due cose in realtà e e in quel preciso momento mentre passavo questa situazione dove mi dicevo Luca davvero è questa la vita che vuoi vivere mi arriva questo messaggio e la mia risposta è stata guarda io i social anche no però se c'è il modo di fare qualcosa di trasformare la mia vita assolutissimamente sì e quindi da lì è iniziato un pochino quello che è stato il mio percorso poi il mio percorso è stato fatto da momenti di di grande esplosione del business dei momenti in cui il business magari è calato poi è rialzato poi è calato qui vedete un esempio di un assegno questo insomma ci tengo a dirlo un disclaimer i risultati sono totalmente personali ovviamente e non seguono una regola ben precisa però effettivamente quel giorno quando ho deciso di aprire il mio codice quel giorno è cambiato qualcosa nella mia vita avevo uno scopo e all'inizio ho proprio ho proprio detto a me stesso come dicevo prima Luca è questa la vita che vuoi vivere no ok questa è un'opportunità spingi scusa spingi termino un po' così però metti tutto te stesso in questo progetto e vediamo dove puoi arrivare e quindi dieci anni dopo sono qui racconto questa storia la racconto ho visto che ci sono delle ragazze collegate ma soprattutto anche ai ragazzi collegati ai ragazzi e agli uomini che stanno cercando una trasformazione perché la differenza tra quel Luca del prima di questa attività e il Luca del dopo è solamente una cosa è la decisione e è una decisione che deve venirti dal cuore davvero cioè magari vi lascio con un consiglio che è stato veramente quello che poi mi ha fatto svoltare la mia vita raggiungendo comunque ho comprato casa con questo business ho comprato più macchine con questo business ho viaggiato in tutto il mondo con questo business e grazie a questo business ho avuto l'opportunità di non solo imparare bene le lingue ma di portare quello che era il mio credo la mia storia la mia passione verso questa azienda in cui collaboriamo e questo lavoro che sto facendo all'estero e il consiglio sostanzialmente è uno guardatevi allo specchio magari mentre siete in bagno come è successo a me e chiedetevi è questa la vita che desidero è questo quello che voglio fare da qui fino a quando il Signore mi permetterà di stare su questa terra chiedetevi questo se la risposta è voglio di più questa è l'opportunità giusta questa è l'opportunità da prendere oggi quindi chiedete alla persona che vi ha invitato a questa zunco al dito guardate ho visto questa zunco e voglio iniziare perché effettivamente voglio qualcosa di più nella vita grazie Luca e anche a te dico la stessa cosa di Claudio se ti va di partecipare poi nelle varie slide successive mi fa piacere va bene allora andiamo a vedere adesso nel pratico come funziona questa attività quindi si parte abbiamo detto qui ci sono due miglioramenti in aspetto fisico e aspetto poi economico scegli il percorso più adatto per te perché sappiamo bene che sia uomini che donne abbiamo sempre comunque qualcosa che vogliamo migliorare del proprio aspetto del nostro aspetto fisico quindi inizia a condividere la tua trasformazione fisica con chiunque sui social nella vita di tutti i giorni perché io penso che chiunque di noi abbia fatto una dieta no? nella nostra vita e quindi quando dimagrisci che cosa succede a parte che questa non è una dieta ma comunque che cosa succede quando dimagrisci che le persone iniziano a chiederti ma che cosa stai facendo ok? quindi vedendo la tua trasformazione fisica le persone ti chiedono appunto informazioni sul programma e che cosa succede che arriva un primo cliente quindi hai tre vantaggi migliorare il tuo aspetto fisico e dalla possibilità di acquistare i prodotti scontati del 30% apro e chiudo parentesi non è solo per chi deve perdere peso ma ci sono talmente tanti prodotti anche per sportivi o per mantenere il proprio peso ok? poi li vediamo più avanti secondo vantaggio non devi proporre nulla sono le persone che arrivano da te a chiederti informazioni e questo è fondamentale terzo vantaggio dalla tua trasformazione fisica puoi iniziare ad ottenere il tuo primo guadagno extra ma perché abbiamo scelto di collaborare con partner tra tantissime aziende di network in tutto il mondo allora prima di tutto perché nel 2022 ha fatto più di 300 milioni di fatturato è un'azienda con 70 mercati aperti in tutto il mondo ciò significa che io da Roma posso avere un team internazionale in tutto il mondo ha più di 30 prodotti certificati e opera nel mercato della bellezza del benessere che in realtà è sempre in continua crescita non risente della crisi ma che cosa hanno di differente di questi prodotti rispetto a tanti altri prodotti simili in commercio vabbè l'autorizzazione sanitaria l'autorizzazione del ministero della salute altrimenti non si potrebbero vendere ma a parte questo hanno più di 18 certificazioni ottenute e prodotti brevettati e se tu cerchi su Google nessun altro brand al mondo di benessere in commercio presenta tutte queste certificazioni ottenute passando dei test molto origini non è che sono state acquistate dall'azienda sono prodotti adatti a qualsiasi esigenza quindi partita di peso mantenimento o integrazione per sportivi quali sono le caratteristiche di questi prodotti naturali al 100% basso contenuto glicemico zero zuccheri aggiunti solo proteine vegetali non contengono soia ma adesso è il turno di una persona che conosco così vagamente siamo incontrati per caso bene allora buonasera a tutti è sempre un piacere parlare della mia storia vi do un po' di background prima di tutto ovviamente sono il fratello di Claudia che sta facendo la presentazione veniamo quindi ahimè dalla stessa famiglia quindi lei più di tutti ovviamente sa il nostro passato comune ovvero noi veniamo da una famiglia abbastanza facoltosa che nel 2010 a causa della crisi perde tutto e ci siamo poi ritrovati a doverci interfacciare il mondo del lavoro con la realtà del lavoro da dipendente ecco immaginatevi a vent'anni quindi io avevo vent'anni ritrovarsi chiaramente catapultati in questo mondo che in nessun modo mi apparteneva dal tranquillamente non pensare proprio al denaro come necessità al dover invece come dire sostentarmi e mantenermi in un attimo è stata veramente dura quindi mi sono catapultato ripeto nel mondo del lavoro ho iniziato a lavorare come cuoco anche con ottimi risultati devo dire ma mi rendevo conto che non era quello che che mi piaceva fare ovvero l'idea di dover essere un dipendente di dover sottostare a delle regole poi magari chi è dipendente lo sa cioè magari ha il capo che è un po' dispotico i colleghi che sono antipatici tutta questa roba io non la accettavo minimamente proprio ero consapevolissimo che non sarebbe stata la cosa che avrei fatto per tutta la vita cercavo un'occasione cercavo qualcosa che riuscisse a farmi ritornare sulla cresta dell'onda e quindi mi mettevo lì a fare ricerche su internet come posso fare per avviare un'attività senza soldi come posso prendere soldi in prestito per rilevare dei business o gestire delle attività una serie di ricerche che poi sono durate 3-4 anni tutte queste cose qua e ero entrato in questo loop di frustrazione perché non riuscivo a uscire da questa situazione che ripeto non mi piaceva non mi apparteneva nel 2014 lontanissimo 2014 mia sorella Claudia ha iniziato giusto un paio di mesi prima di me inizialmente io le sono andato contro perché io ad oggi capisco ancora chi è rimasto magari scottato dalle esperienze precedenti o comunque associa questo tipo di attività a qualcosa che è come dire è losco o qualcosa che non va bene non è un lavoro sano ecco perché io per primo lo ero poi ho superato questa questa barriera che in realtà mi ero autocostruito e ho capito che effettivamente è un lavoro a tutti gli effetti di imprenditoria forse è troppo bello per essere per essere vero nel senso che non c'è veramente un grosso investimento per avviare questa attività le spese fisse per chi è imprenditore sa perfettamente quanti sono le spese fisse di mantenimento di un'attività solo pensate il commercialista cioè io ad oggi ho anche diverse attività oltre a questa del network marketing che faccio ormai da anni quindi ormai riesco a vedere un po' a 360 gradi il mondo dell'imprenditore e ripeto io lo dico sempre lo dirò sempre il network marketing è l'attività utopica perfetta perché a parità di quello che uno investe di tempo di denaro quello che ti dà è veramente altissimo a me personalmente questa attività ha stravolto la vita ovviamente dopo quattro mesi di questo business mi sono licenziato da quello che era il mio lavoro perché avevo ero arrivato a prendere mensilmente quello che guadagnavo come cuoco quindi ho abbandonato la professione del cuoco e da quel momento in poi ho fatto soltanto questo è stata una crescita continua certo come dice Luca come in ogni business è fisiologico che ci sono degli alti e dei bassi perché sarebbe strano il contrario però alla fine ecco quello che riesce a fare questo business sicuramente ti cambia la vita io personalmente sì ho realizzato tantissimo ho comprato una casa ho viaggiato ho visto meravigliosi posti nel mondo ho ampliato ecco il mio raggio d'azione come imprenditore ho rilevato una company negli Stati Uniti quindi mi sono anche creato altre tipologie di business ovviamente il mio central core rimane il network marketing la mia fonte di reddito principale rimane questa però ecco come dire ho cercato anche un po' di utilizzare le competenze e anche il denaro guadagnato per poter creare anche altre fonti di reddito ecco se io oggi mi guardo indietro e vedo quel ragazzo come ce ne sono tanti oggi magari che stanno guardando questa zoom o magari siete mamme papà di genitori di figli che magari si trovano soprattutto alla fine dell'adolescenza sapete in quei momenti in cui uno è perso non sa che cosa deve fare nella vita ecco io ero esattamente così quindi se mi rivedo a oggi non avrei mai immaginato di ritrovarmi nove anni dopo a parlare in una zoom come questa ma come in tanti altri eventi in cui ho già raccontato la mia storia non mi sarei mai creduto capace di una cosa del genere quindi ecco vi voglio dire è un'attività non è un'attività da serie B è un'attività da serie A se la tratti come un'attività da serie A poi in qualsiasi tipologia di lavoro che uno fa nella vita ci sarà sempre chi critica perché quello fa parte io credo della natura umana ma non solo a livello lavorativo se ci pensate io penso che in tutte le sfaccettature della vostra vita avete chi vi critica o chi comunque gli viene contro quindi tanto vale lasciarsi tutte queste bagianate alle spalle superare sicuramente un po' di pregiudizio che magari se ce l'avete è giusto superarlo e diventare un po' oggettivi e capire toccare con mano che è un business che veramente ecco ti cambia la vita come è successo a me e a noi bene grazie Gian allora andiamo in chiusura adesso quindi andiamo a capire un attimino qual è l'obiettivo a breve termine che cos'è abbiamo capito come funziona a livello pratico ma qual è l'obiettivo per guadagnare a breve termine è quello di crearti il tuo bacino di clienti per avere appunto il tuo primo guadagno in realtà non è un guadagno mensile ma è un guadagno settimanale perché l'azienda ci paga ogni venerdì ok e ci sono persone che comunque già dalle prime settimane riescono a portarsi a casa un guadagno extra l'obiettivo a lungo termine è quello di crearti un team di persone che ha voglia di cambiare la propria vita proprio come te come noi e di iniziare quindi ad ottenere un guadagno a lungo termine quindi più il tuo team guadagna e cresce e più il tuo guadagno aumenta perché l'obiettivo del network marketing è sì quello di avere un guadagno immediato ma è anche quello in futuro di avere un guadagno passivo cioè se io ho un team grande significa che un mese voglio stare senza lavorare me lo posso permettere perché comunque guadagno dal fatturato del mio team ok questo è l'obiettivo principale del network marketing ma come iniziare questa attività l'unico costo obbligatorio sono 29 euro e 95 per aprire il tuo codice con partner in co e riceverai il tuo ufficio online personale avrai accesso anche dall'app una formazione aziendale e poi formazione e supporto del team posso dire H24 7 giorni su 7 quasi sì quindi non sarai mai solo questa è una cosa importantissima perché comunque all'inizio magari dice no beh poi apro il codice chi mi segue ci sarà un team che ti seguirà quindi se comunque ti ha scatenato qualcosa questa questa zoom questa sera perché poi adesso abbiamo concluso se ti ha scatenato qualcosa se comunque ti ha messo un po' la pulce all'orecchio quello che ti consiglio appunto è rivolgerti alla persona che ti ha invitato a qui questa sera anche perché ripeto lì fuori di opportunità come queste noi che abbiamo avuto attività imprenditoriali e fatto i dipendenti ti posso assicurare che non esiste ma se sei qui lo sai anche te che non esiste un'opportunità che può darti tutto questo quindi contatta subito la persona che ti ha invitato qui a questo a questo evento e inizia subito insieme a noi io ringrazio veramente tanto Claudio Luca e Gianluca perché sono tre persone che stimo tantissimo e grazie per essere stati qui questa sera grazie a tutti buona serata ciao 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 Grazie a tutti.